Ed ora parliamo di arte con le installazioni di Maria Cristina Finucci nel Museo di Arte Contemporanea di Lucca. Sentiamo Francesco Tei. Nelle sale e anche nel sotterraneo affrescato dello storico palazzo che ospita il Lucca Center of Contemporary Art, le creazioni di difficile definizione e collocazione di Maria Cristina Finucci, architetto, designer e artista, le cui opere sono raccolte sotto il titolo di paradigmi. I paradigmi li intendo come quei processi mentali che aiutano a elaborare tutti quei segnali che ci arrivano, gli stimoli che ci arrivano dai nostri sensi e che ci fanno vedere la realtà, ci decodificano la realtà, quello che noi vediamo, che non è sempre uguale, la realtà non è oggettiva. La Finucci lavora quindi sulla percezione, sulle sue varie possibilità, sui punti di vista diversi che possono generare illusioni. La Finucci ricorda che gli ultimi studi della fisica hanno dimostrato l'esistenza di almeno nove dimensioni. Queste dimensioni che adesso non possiamo vedere, ma che in futuro forse vedremo, mi immagino come sarà, chiaramente non è una ricerca scientifica, ma sono degli spunti che io ho preso dalla fisica.